Zitta Zitta, Siena ha 22 punti in classifica in compagnia di Tortona e Agropoli, neopromosse anche loro. Nell'ultimo periodo ha preso sempre più fiducia. All'andata la palacanestro Trapani era riuscito a vincere facile in casa. Una società storica, un campo caldo, una squadra giovane. La squadra di Ramagli è cresciuta. Gli americani Bryant e Roberts stanno facendo bene e Ranuzzi, Di Rieglo e Udom altrettanto. Per il Granata sarà una prova tosta. Sempre più in emergenza e infermeria dovranno prendere quanto di buono venuto fuori dalla partita con Scafati. Lo stesso orgoglio.